Oggi sto riempiendo la mini spa per mettere all'interno tutti i nostri attrezzi che usiamo regolarmente su cani e sui gatti, comunque sui nostri clienti, per disinfettarli con lo zoonoterapia. Questa qua è la vaschetta, ci siamo quasi, adesso li andremo a mettere tutti dentro per far sì che qualsiasi germe al di sopra, anche se ogni volta comunque vengono disinfettati e sterilizzati, siano al 100% sempre sicuri. Giusto due attrezzi, ma proprio giusto due. Adesso facciamo partire all'ozono. Buongiorno! Addio! Una volta finita la spa, li andiamo tutti a sistemare a testa in giù, ovviamente, per far sì che l'acqua scoli bene e poi ci passiamo una passata di soffiatore per levare tutto il grosso, il rimanente dell'acqua. Eccoli qui, questi stanno ancora annegando. Eccoli tutti, belli ad asciugarsi. Grazie. 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 Grazie.